Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna colta alla colomba. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più 6 ore di riposo in frigorifero. Ingredienti sono latte, panna fresca, zucchero, colomba taglia da cubetti, gelatina in foglia ammollata in acqua fredda, vanillina e cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la vanna, il latte, la vanillina e lo zucchero. Azioniamo il bimbi per 6 minuti, 80 gradi, velocità 3. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Aggiungiamo la colomba tagliata a cubetti. facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario velocità 2. Il composto è pronto trasferiamolo in degli stampini. Posizioniamolo in frigo per almeno 6 ore. Trascorsi il tempo la panna cotta è pronta adesso andremo a guarnire con il cioccolato fondente fuso pezzetti di cioccolato e pezzetti di colomba. Panna cotta alla colomba grazie e alla prossima ricetta Panna cotta alla colomba grazie e alla prossima ricetta. Panna cotta alla colomba grazie a tutti.